bene eh sono Ugo Zavanella e sono nato a Mantova e vivo a Mantova e sono uno degli autori della ballata del Pinelli. Mi è stato chiesto di raccontare come è nata questa ballata e ben volentieri ho accettato eh di raccontare come abbiamo scritto eh questa canzone, questa ballata che si è poi diffusa molto e di cui siamo molto contenti di quello che è stato il risultato. Era il dodici dicembre, eravamo un gruppo di ventenni anarchici e avevamo fondato il circolo a Mantova Gaetano Bresci. A Mantova esisteva precedentemente un circolo anarchico che era il Molinari, frequentato da anziani anarchici mantovani che avevano raccolto molta documentazione e noi come ragazzi, come giovani, avevamo iniziato a frequentarlo. Le nostre idee nel 68 erano un po' diverse da quelle dei vecchi anarchici, più loro legati alla tradizione. Noi eravamo un po' più per l'azione, per la propaganda e quindi decidemmo di uscire dal circolo Molinari e di fondare il circolo Gaetano Bresci. Già il nome Gaetano Bresci indicava una logica diversa di atteggiamento politico. Ricordo che la sera del dodici dicembre tornai a casa e mia madre mi chiese ma cosa è successo, cosa è stato fatto, cosa avete combinato? Io non ero assolutamente, non ero conoscenza di nulla e accesi la televisione e vedi che la televisione annunciava e continuava a trasmettere anche in diretta da Piazza Fontana le notizie della strage. Rimasi ad ascoltare, molto perplesso, inizialmente si cominciò a dire che era probabilmente scoppiata una caldaia ma nel giro di una mezz'ora il questore guida annunciava che si stavano svolgendo indagini, era un attentato e quindi si stavano svolgendo indagini nell'ambiente anarchico. Guarda caso, rimasi molto perplesso, subito nell'ambiente anarchico. La cosa mi sembrava strana perché da come io concepivo l'anarchia ho sempre saputo di attentati anarchici ma sempre però rivolti a persone, a colpevoli. Gaetano Bresci aveva ucciso Umberto I, colui che aveva fatto sparare dal generale Baba Beccaris coi cannoni sulla folla che Pan domandava, come dice la vallata di cui poi vedremo. Se voi cercate su Wikipedia anche oggi e mettete attentati anarchici non troverete attentati dove bombe scoppiano ferendo o colpendo o ammazzando la povera gente. Ecco perché la cosa mi sembrava molto strana. Comunque il giorno dopo cominciai a guardare i giornali e cominciai a leggere e vedere una campagna di disinformazione direi o di diffamazione come si vuole. Era stato interrogato Pinelli, qualche giorno dopo era stato catturato Valpreda e sui giornali e sulla televisione si scatenò una notevole campagna diffamatoria. Valpreda la furia della belva umana, il corriere di informazione. Valpreda una belva umana, il messaggero. Valpreda viene descritto come un mostro disumano, la nazione. Valpreda un pazzo sanguinario, il tempo. Pinelli molte sere anziché l'incasare andava a tramare gli attentati. Addirittura sulla nazione scriveva Enzo Tortola, il quale descriveva che Valpreda, messo alle strette dagli inquirenti, si rotola per terra nella cella, schiumando bava e sangue. Questo era Enzo Tortola. Sappiamo poi come Enzo Tortola abbia avuto alcuni problemi anche lui con la giustizia, forse una nemesi storica. Comunque vista la situazione pensiamo di riunirci al circo anarchico Gaetano Vresci con gli altri compagni per tentare quella che si poteva vedere come una campagna di controinformazione. Noi teniamo molto a diffondere le idee, in particolare in questo momento, a cercare di spiegare che gli anarchici non c'entravano nulla. Non ponere nella logica anarchica, almeno nella nostra logica anarchica, non era quella di mettere bombe che ferissero della povera gente o che ammazzassero della povera gente. Cominciamo a fare dei volantini, a cercare di fare del volantinaggio, passarono le giornate e vennemmo poi a scoprire, a sentire che il Pinelli arrestato si era gettato dalla finestra della questura di Milano gridando è la fine dell'anarchia. Altra cosa che ci lasciò estremamente perplessi. Come anarchici non potevamo pensare che la strana fine di Pinelli, un anarchico che si butta dalla finestra, come ci dicevano, del quarto piano della questura di Milano ci ricordava un caso analogo, Andrea Salcedo, un anarchico italiano che il 3 maggio 1920 fu gettato dal quattordicesimo piano del Dipartimento di Giustizia di New York, la questura di New York per intenderci. Strana analogia. Guarda caso un anarchico che cade ancora una volta da una finestra. La cosa non ci convinse per niente. decidemmo di partecipare ai funerali del Pinelli che si svolgevano a Milano. Noi non eravamo dei ragazzi, non avevamo macchine, per cui ci rivolgemmo a un vecchio anarchico mantovano, Aldo Turchato, un vecchio compagno settantenne di lunga militanza anarchica, che con la sua macchina ci accompagnò me e Flavio Lazzarini e due compagnie del circolo, Gaitano Bresci, ci accompagnò a Milano. A Milano la tensione era notevolissima. Per di più per noi, giovani ragazzi arrivati nella grande città, da una piccola città come Mantua, tutta quella polizia, quel silenzio, quella tensione che si palpava ci lasciò molto colpiti. Al funerale c'erano solo bandiere nere e ci fu in particolare chiesto, noi avevamo portato due bandiere nere con la cerchiata rossa al centro e alla fine della funerale, prima del seppellimento della Lara, ci fu chiesto se potevamo lasciarne una perché era abbastanza piccola e stava bene, stava sulla bara. E quindi noi lasciamo questa bandiera sulla barra del Pinelli che fu tumulata. Tornati a casa, il giorno dopo ci ritrovamo al circolo Gaitano Bresci, eravamo io, Flavio Lazzarini e ci raggiunse il Dado Mora e Corrado Barozzi e cominciamo a ragionare su come si poteva fare della controinformazione. Pensavamo i volantini, pensavamo finché nacque l'idea di fare una canzone, una storia. A quel punto, calcolando e vedendo la tradizione popolare anarchica, pensavamo la ballata. Cerchiamo appunto di trovare nella tradizione anarchica una ballata che si compacesse al nostro modo di voler interpretarla e trovammo appunto nel feroce monarchico una vecchia ballata anarchica della storia che raccontava appunto di quando Bava Beccari sparò sulla folla con i cannoni, alla folla che Pandion mandava, dice la canzone, c'era ballata e quindi prendemmo quella come musica. La prima strofa della ballata, della nostra ballata del Pinelli comincia con quella sera a Milano era caldo. Era un po' una dichiarazione di intenti quella che noi facevamo con quella sera a Milano era caldo. Non è vero, a Milano c'era freddo, era il 14 dicembre, il 15 dicembre e quindi c'era freddo. Perché dire quella sera era Milano era caldo. Per entrare nel clima di bugie, di racconti, di falsità che veniva data dalla stampa ufficiale, dalla questura, dalla polizia che raccontava storie e invenzioni a tutto spiano. Pinelli si è gettando, gridando la viva alla fine dell'anarchia. Il brigadiere Lograno, testuale, racconta di aver cercato di fermare Pinelli quella sera nella sede della questura e invece Pinelli cascò, a lui rimase una scarpa del Pinelli in mano. Peccato che Pinelli cascò con entrambe le scarpe. Quindi Pinelli aveva tre piedi, secondo la questura di Milano. Ecco, in questo clima di invenzioni, di balle, dette, comincia quella sera a Milano era caldo la ballata del Pinelli. Poi la ballata continua e cerca di dimostrare l'impossibilità, impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto. Ecco, questo è quello che noi sentivamo. Non poteva essere stato un anarchico a uccidere quelle persone. Ripeto, gli anarchici, almeno per quello che noi professavamo e conoscevamo, non avevano mai fatto azioni violente contro le persone indistinte. Certo, contro i re, contro i regnanti, contro i colpevoli di chi aveva violentato il popolo. E così scrivemmo quella ballata e uscì in un'ora la composizione della ballata e nel suo dotare. Decidemmo di portarla in un circolo che quella sera era aperto, era il circolo Arci di Piazza Virgiliana, un circolo dove si univano i compagni anziani del Partito Comunista, ma anche della sinistra, e facemmo loro sentire la nostra ballata. Ci accorgemmo che la ballata era piaciuta molto quella sera e quindi ci convincemmo di aver fatto qualcosa di positivo. Nei giorni successivi, io che studiavo Sociologia a Trento, portai la ballata a Trento. Flavio Lazzarini, un altro degli autori, la studiava in Cattolica Milano e la portò a Milano. Da quel momento la ballata cominciò a girare, a diffondersi e si cominciò appunto a diventare parte della controinformazione che noi volevamo fare. Molti si appropriarono della ballata, molti volevano farla propria, si vede che la ballata era convincente e cominciarono a modificare il testo e alcune cose delle modifiche non ci fecero molto piacere, lo dico sinceramente. Ad esempio in una strofa si dice che eravamo 3000 compagni, era in Forale di Pinelli, eravamo 3000 compagni, stringevamo le nere bandiere. Ecco, se voi guardate le edizioni che sono apparse, quel nere bandiere diventa le nostre bandiere, le rosse bandiere e così via. Ecco, questo non ci è piaciuto. Quel giorno a Milano erano solo bandiere nere, non sono mai arrivate le bandiere rosse o di altri colori, erano bandiere nere, c'erano solo anarchici. Questo perché sin all'inizio anche la sinistra italiana, anche lotta continua ad esempio, non era convinta che noi anarchici fossimo estranei alla strage, alla bomba. Ricordo che qualche giorno dopo appunto i fatti di cui stiamo parlando, facemmo una manifestazione in centro a Mantua, una manifestazione con una sola persona, con una bandiera nera, sui gradini di una piazza. Una sola persona perché volevamo evitare problemi con la questura per manifestazione non utilizzata, che prevede tre persone per la manifestazione non utilizzata. Noi eravamo una sola persona con una bandiera nera. Quella mattina passarono alcuni compagni di lotta continua e ci apostrofarono dicendo ma guardate cosa avete combinato i soliti anarchici. Io a Trento, con altri compagni, volevamo fare una manifestazione, questa volta la facemmo all'interno della Facoltà di Sociologia e organizzammo, improvvisammo uno spettacolo teatrale, un happening, sullo stile del Bread and Puppet Theater, un teatro anarchico americano. In questa manifestazione, in questo happening, dopo una serie di vicende buttavamo un manichino dalla finestra del terzo piano della Facoltà di Sociologia. Immediatamente il servizio d'ordine di lotta continua intervenne, ci bloccò e ci chiese cosa stavamo combinando. Questo per dire che anche all'inizio della vicende, anche la sinistra fu molto perplessa prima di cominciare a credere che gli anarchici non c'entravano niente. Ecco, questo è il tentativo di contrainformazione che la ballata di Pinelli ha voluto fare. Ci fa molto piacere che la ballata abbia avuto il successo che ha avuto, che si sia diffusa per diffondere appunto l'idea che gli anarchici non c'entra niente, che Pinelli è stato assassinato, che Valpreda è morto appena fuori dalla galera, innocente, per fare veramente dell'informazione. Purtroppo non credo che il nostro intervento abbia suscitato molte differenze. Ancora oggi, se guardiamo la televisione, se ascoltiamo i telegiornali, appena succede un incidente, una bomba, qualcosa, sentiamo subito che la risposta è, da parte della questura, da parte della polizia, si sta indagando in ambienti anarchici. Quando sono vent'anni sappiamo che gli ambienti da andare a vedere sono gli ambienti fascisti, gli ambienti padronali, gli ambienti dei servizi segreti. Qualcuno dice deviati, a me non sembra per niente deviati in vent'anni perché sono sempre stassi della stessa linea di coprire gli attentati. Però la ballata sta girando ancora oggi, questa testimonianza ne è una prova e per cui io spero che questo sia un segno di speranza e di continuità. Grazie.